I carabinieri della compagnia di Partinico, insieme a un'unità del nucleo cinofili di Palermo Villa Grazia, hanno tratto in arresto un trentenne e deferito in stato di libertà tre uomini di età compresa tra i 21 e i 53 anni. I militari dell'arma hanno eseguito un servizio ad ampio raggio finalizzato alla prevenzione dei reati e delle violazioni al codice della strada, organizzando posti di controllo lungo le principali arterie dei comuni di Montelepre e Borgetto. Durante l'attività, un trentenne monteleprino, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché è trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e hashish, sostanze già confezionate e destinate presumibilmente allo spaccio. Un 21enne, invece, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per porto abusivo di oggetti atti a offendere, poiché circolava con una pistola a pallini, del tutto simile a un'arma in dotazione alle forze dell'ordine, priva di tappo rosso. Inoltre, è stato segnalato alla Prefettura di Palermo come assuntore di stupefacenti per uso non terapeutico, in quanto trovato in possesso di una dose di erba. A Borgetto, due automobilisti hanno attirato l'attenzione degli equipaggi impiegati nel servizio, poiché scorrazzavano pericolosamente nelle strette vie del centro cittadino. Sottoposti a controllo, un 53enne straniero è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza in quanto circolava con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, mentre un 29enne del posto è stato trovato in possesso di una paletta segnaletica della Polizia Locale del comune di Borgetto e pertanto è stato deferito per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti. Nel complesso sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per oltre 4.000 euro, sequestrati tre veicoli e ritirate due patenti di guida.